Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna per lavori. In A11, due chilometri di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola, e code a tratti tra Pistui e il Bivio con l'A1, tutto verso Firenze. Carreggiato opposta, rallentamenti tra Bivia 11 e 1 e Prato Est, ancora una volta per traffico intenso. E arriviamo in A12, code a tratti per incidente tra Carrara e Massa per chi viaggia verso Livorno. In Cipili, rallentamenti verso il capoluogo tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze, tre chilometri di coda per lavori tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest. Coda per lavori anche tra Bivio e Dinamazione Pisa, S.G.C. Cipili da Pisa verso Firenze. Buonasera, Sintos Cana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.